Grazie a una rete di aziende e di privati che hanno sostenuto il parco archeologico, il sito di Pestum in provincia di Salerno è stato negli ultimi anni tra le realtà più dinamiche dell'Italia meridionale in materia di donazioni e art bonus. Ora l'adesione di un'azienda erpina che ha allargato così il cerchio dei mecenati che contribuiscono alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico Magno Greco, l'elargizione liberale di 5.000 euro da parte del Project Power SRL con sede ad Avellino, è particolare per un ulteriore motivo, è la prima indirizzata esplicitamente anche a Velia, il sito Unesco che l'anno scorso è stato unito all'autonomia di Pestum sotto la guida del direttore Gabriel Zugtrigel. La legge art bonus introdotta nel 2014 consente ad aziende e cittadini di beneficiare di sgravi fiscali sostenendo progetti nel settore dei beni culturali. Il mecenatismo culturale è sempre esistito, commenta Alfonso Andrea, già presidente della provincia di Salerno e membro del consiglio di amministrazione del parco, ma l'introduzione dell'art bonus, una delle grandi innovazioni della riforma Franceschini, rappresenta uno strumento assai originale in rapporto alla modalità di applicazione. All'inizio della mia appassionante esperienza nel consiglio di amministrazione del parco archeologico di Pestum ebbi l'idea di promuovere in sede Assindustria Salerno e grazie alla disponibilità dell'allora presidente Mauro Maccauro un incontro con imprenditoria del salernitano con il neonominato direttore Zuck Trigel. Gli esiti furono molto positivi e gli apporti che ne conseguirono produssero risultati soddisfacenti. Dopo l'aggregazione di Elea Velia, l'autonomia amministrativa e gestionale di Pestum, i passi avanti, già compiuti e sotto gli occhi di tutti, inducono a rilanciare quello stesso messaggio e anzi ad ampliare lo spettro dell'ipotetica platea. Il parco archeologico di Velia ha straordinarie potenzialità, talune inespresse anche a causa della marginalizzazione geografica di contro Elea e la culla del pensiero e della cultura occidentale e dunque merita adeguata attenzione oltre che da parte pubblica anche del privato, a partire dalle progettualità già messe in campo dal direttore. Il gesto di un'azienda erpina apre uno scenario interessante, la cultura abbatte gli steccati campanilistici, la sensibilità e l'intelligenza, in questo caso degli imprenditori, fanno il resto. Un bel esempio che auguro venga emulato. A marzo partiranno nuove indagini archeologiche, volte a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione dell'area dell'acropoli di Velia, aggiunge il direttore. Speriamo di poter coinvolgere sempre di più il territorio nelle nostre attività, non solo in veste di sostenitore. Il Cilento è una terra ricca di culture e tradizioni per cui puntiamo a rinforzare le sinergie con il Parco Nazionale e la rete tra altri luoghi della cultura, borghi storici, associazioni e cittadini. Grazie a tutti.